Oggi ho visto parecchie persone interessate, eh sì, eh sì, questi capiscono le cose, ci vivono tutti i giorni in mezzo alle problematiche, hai sentito quella che ha detto? Io ho dovuto prendere il mutuo in banca per pagare le tasse, non mica l'unica, la maggior parte, infatti io col cazzo che pagavo, io dicevo I owe you, te devo 18 euro, tu però me ne devi dare di più. Dì, I love you, allora hai appreso? Sempre, ricordiamoci sempre, solo ovvio. Allora facciamo un discorso, stai già facendo? Sì, vai. Allora, colgo l'occasione di questa meravigliosa giornata di primaverile, che per molti potrebbe veramente rappresentare qualcosa di pericoloso, per dire che non è assolutamente vero, qui abbiamo, vediamo. Le modificazioni del clima? Il titolo, vediamo il titolo. Cretina, paravento per gli affari miliardari delle multinazionali. Allora, è tutta una operazione, lo ripetiamo. Tutta, io l'ho letto 10 righe, quando uscivi il primo lancio pubblicitario promozionale ho detto questa è una sola mediatica. Allora c'è stato un video che ha fatto qualche nostro amico, di cui non ricordo il nome per il momento, e in questo video ci faceva vedere come sono sempre ricorrenti questi messaggi terrificanti sul rischio cambiamento. Ma ve lo ricordate? I messaggi apocalittici del fine secondo millennio? No, crolla il mondo, arriverà Argameddon, Armageddon, arriverà... Ma sul secondo millennio ci hanno riprovato? Ci hanno riprovato e come? Certo, è che ho detto? No, appunto, però il primo era il primo lì, all'epoca ci hanno creduto. Certo, e beh, le crociate sono nate da quello. Pensa un po', 30 milioni di persone le morti all'epoca, nelle 8 o 9 le crociate. Allora, certo, le crociate? Ma poi alcune che erano, per voglio dire, andavano lì e rubavano quello che potevano, quindi non erano ufficializzate. No, 8 o 9, quelle ufficiali erano 8 o 9. Tra cui una che si è basata sul saccheggio di Costantinopoli. Sì, di Costantinopoli, certo. Quella è la vera crociata. Quella del 1254, che mi pare era la terza. Per cui, quando i turchi si sono possessati di Costantinopoli, ai turchi era rimasto poco? Veramente poco. Beh, le varie compagnie dei cavalleggeri, dei paladini... Guardiamola, a me città corrisponde oggi nell'attualità, perché... No, i vari cavalieri di qua, di là, di Roma, di Malta, di Cazzo, di Creta e così via, erano gli usurpatori, gli invasori, i devastatori e i saccheggiatori di Costantinopoli. Certamente, certamente. Non a caso prevalentemente francesi, perché qui si parla sempre di crociate, ma non si dice chi erano i veri crociati. Beh, Luigi il Santo, intanto mi cominciamo. Non sapevano chi... Luigi Nono, Luigi Nono il Santo, un delinquente che mi ha più delinquente. Allora, dicevo, ci sono rincorsi in questi ultimi vent'anni una serie di fanciulle, giustamente selezionate dalla faccia più scema possibile. Come anche i sardini. I sardini sono uguali. Stessa generazione, stessa generazione. Il capo delle sardine, l'abbiamo già detto, ha una palese faccia da coglione. Con quella pettinatura che gli hanno fatto appositamente per far vedere che è un ragazzo di strada. E invece, chi è? E chi è? E' uno delle famiglie dominanti. Un partecipante a una delle famiglie benestanti, quantomeno. E' uno scarto di sagrestia. La definizione del capo delle sardine è scarto di sagrestia. Scarto di latrine e di sagrestia. Allora, mi riferisco sempre a dati significativi, perché mi riferisco a quello che è stato detto ieri, a quell'importantissimo programma che presumo pochissima gente vede, che è Leonardo, programma di aggiornamento scientifico vero, dopo Tg3, all'ora di pranzo. Lì è stato detto in maniera molto chiara il ricorrere di queste operazioni terroristiche legate al cambiamento del clima e dell'ambiente. E sa, ha citato, è tutta una serie di studi che riprendono tutto quello che è avvenuto nell'ultimo millennio, praticamente. Se ti interrompo, a proposito di Mattia Santori, diciamo chi è questo signore? Sì, sappiamo, sappiamo. Perché i nostri ascoltatori non ho un dipendente di prodi. Sì, però ecco, dobbiamo dire nello specifico, perché la gente deve memorizzare quello che sta accadendo e capire quello che sta accadendo. Quindi andare magari a continuare questa ricerca che noi stiamo dicendo, magari ampliandola. Sì. Allora, questo signore ha 30 anni ed è un ricercatore del RIE. Ma che cos'è il RIE? È una società che si occupa di comunicazione sociale. Di chi è il RIE? È una società privata di consulenza fondata da chi? Da Prodi. Romano Prodi, il grande romano. Clò è a tutt'oggi membro del CTA della GEDI. Allora, ecco, questa qua, nessuno dice chi è Clò. Alberto Clò. Chi è Alberto Clò? Non chi è Romano Prodi, ma chi è Alberto Clò? E qua non c'è scritto. Sì, non c'è scritto, è un membro del CTA della GEDI. No, è... La società editrice di De Benedetti. Ma per carità, Alberto Clò fa parte di quei cespugli di sottogoverno da 40 anni che passa da un ministero a un istituto all'altro a secondo di che il vento tira. Certo. Capito? E il signor Clò è quello che era cena, anzi era nel pomeriggio, nel dopopranzo, a, in quel, diciamo, delle colline bolognesi dove si svolgeva una particolare seduta spiritica. Dove è apparso il buon Gesù? Dove, no, dove è apparso il cazzo che te se frega? Il buon Gesù! E' importante invece, ricordiamolo, che la GEDI, con cui è collegato da Benedetti e gli Agnelli, appunto, è il maggior gruppo editoriale in Italia. E questo spiega perché, versioni come Horacio Ferniani e gli Alba Mediterranei, mai potranno apparire. Giorgio all'Italia dei Astro Consumatori, Andrani per la Giorgia di De Qualconsensi e tanti altri che fanno disinformazione in Italia, ad oggi non appaiono sui grandi quotidiani, in prime pagine dei giornali, in tutte le trasmissioni delle visite. Anche perché non abbiamo una faccia da stronzo. Ma neppure alla 7, come qui oggi è intervenuta. Ricordo che queste persone hanno fatto delle manifestazioni in piazza, che hanno portato in piazza 50.000 persone, con tanto di cassi altoparlanti, con tanto di caro. Ricordo che tutte queste cose hanno dei costi e chi glieli fornisce questi costi? Ma non è il popolo, perché il popolo non ha fornito nulla. Sono semplicemente questi meccanismi che danno non solo notorietà, e dicono alle persone, andate alla manifestazione in piazza. Visibilità soprattutto. La visibilità per oggi è tutto in un sistema di comunicazione basato sui media. Quindi di conseguenza, quello che vi diciamo noi è, ragionate con la vostra testa. Aspetta che vi faccio un piccolo autoselfie. Un autoselfie. Ragionate sempre con la vostra testa. Iniziate a capire che... Perché sei Renzi? La prima cosa che dovreste fare, io sento adesso, parliamo per esempio di Sanremo. Adesso Sanremo, ci sta l'evento mediatico di Sanremo, e stanno parlando della cosa oscena, di mettere in scena questo ragazzo mascherato, che ha dei testi osceni, che parla di violenza sulle donne, di sessualità violenta sulle stesse donne. Ma sai che il ragazzo ha mascherato in faccia e invece non ha le mutande sotto? Quella è la prelocativa. Senti, tanto tanti, boicottiamo Sanremo. Io invece vi dico un messaggio più grande. Iniziate a boicottare le televisioni, iniziate a boicottare i giornali, perché vi stanno non informando, ma disinformando. Meglio dire prendere il culo. Esatto, e quindi di conseguenza stanno in maniera condizionata o incondizionata, comunque lavorando sul vostro subconscio, sulla vostra mente e sul vostro modo di ragionare. Il vostro modo di ragionare è quello che vi permette di rimanere cittadini liberi. E se voi rimarrete liberi, avrete la possibilità di ragionare su chi invece vi state dicendo delle cose che vanno nell'interesse del bene comune. Quindi per noi tutti, per voi, per noi, ma per tutti quanti. E quello noi continuiamo con la cambiale sociale. Sempre, sempre. No, aspetta, aspetta. Foreva, Foreva. Chi era? Tu hai parlato di clò. No, non ho finito sul clò, cioè dell'altro. No, noi dobbiamo parlare di prodi detto immortale. No, ricordiamo, aspetta, prima di affrontare l'altro tema, finiamo con clò per almeno una cosa. Cioè questa seduta speditica in cui c'era questa tassina che vagava sul tavolino a tre piedi, dove andava a finire sulle lettere che, guarda caso, indicavano il località Gradoli. Non si può avere troppo. No, la cosa bella, che pochi sanno, è che Prodi due giorni dopo era convocato dalla commissione di legante su Moro. Su questi argomenti a secco. Su questi argomenti. E non gli ha detto un cazzo di niente di quello che era veramente avvenuto. Tant'è che poi quando è stato interrogato Alberto Clò, qualche settimana o qualche giorno dopo, ha dovuto dire, tenendo presente che Alberto Clò e Romano Prodi erano personalità di primo piano nella Repubblica dell'82. All'epoca che in carico avevano, te lo ricordi? Sì, Prodi era già il diliquidatore dell'Iri, oltre che il professore merito... Certo, era un delinquente già consolidato, come Alberto Clò, che ne più ne meno, come Massimo Noni, che nessuno nomina mai, ma c'è questa tribù sotterranea che cambiano i governi, cambiano le personalità che stanno, diciamo, in primo piano, ma loro rimangono stabilmente lì e continuano a fare il loro cazzo di sporco lavoro, a prescindere da chi stanno pagando, da chi stanno pagando. Diciamo qualcosa di più per le nostre amici. Certo. Tutti questi personaggi, e ripeto, Prodi detto Immortadella, Casini e altri personaggi di questo tipo, sono creature dirette del Cardinale Lercani. E perché Formigoni? Creatura diretta, non del Cardinale Lercani, ma del caro, pensi di comunione et liberazione. Il quale è talmente casto, talmente buono, che era casto. La compagnia delle opere, soprattutto, la compagnia delle opere, chi cazzo l'ha mai sentito nominare, eppure è uno di quei centri di potere assoluti in Italia, da sempre. Formigoni, che cazzo davanti. Non si fa affari in Italia se non c'è dentro la compagnia delle opere. Esattamente. Tutte le gare d'appalto, qualunque fornitura allo Stato, deve intervenire la compagnia delle opere. Allora. Capito? Che è in mano, che è in mano, a chi? La compagnia delle opere oggi è in mano, comunque, a comunione e liberazione. O anche le acli. Ma fino a un certo punto, comunione e liberazione, ha trovato in concorrenza contro le acli per lungo tempo. Ma ad ogni modo... Io mi immagino chi ci ascolta, per me è un continuo sapere, è un continuo immagazzinare informazioni, ogni volta che frequento questi due ragazzotti, immagino per voi che è sottato dall'altra parte. Che piacere che deve essere. Il formicone, che ha sempre detto di essere casto, io ho sempre aggiunto davanti. E' puro, vergine, addirittura. Io ho sempre detto davanti. Adesso sta in galera. Beh, fortunatamente. L'onore del buon Gesù. Beh, dopo aver sottratto 70 miliardi qua e là... Io ricordo che in relazione a comunione e liberazione, e questo lo ricordo sempre quando parlo, c'era un manifesto meraviglioso all'Università di Roma, alla Sapienza, un manifesto grande, uno striscione. Quanti anni fa? Parlo del 70. Allora posso... Allora l'ho visto, perché io nel 70 non mi ero ancora diplomato, ma venivo all'Assemblea Generali a lettere, no? Quando io non ero ancora nato, però, quando è cominciato l'epoca di liberazione, che nel giro di pochissimo tempo si è gestito tutte le cooperative che operavano all'interno della Sapienza. E lì c'era scritto, vi dite figli di Maria, ma siete pagati dalla CIA. Bellissimo. Me la ricordo, me la ricordo. Allora... Andiamo al discorso, perché per me è importantissimo, dei cambiamenti... Ma tu c'eri quando noi abbiamo fatto occupazione alla Sapienza, che andavamo a dormire con i materassi lì la notte... E' stato il primo a fare un'occupazione universitaria di tutti i tanti. Ah, l'energia di chimica, me l'avevi raccontato. L'occupazione della facoltà di chimica. No, ma lì... Tematico che è interessante. Ma a lettere c'eri? Ma a lettere c'eri te? Quando nel 70 abbiamo fatto... No, quando sono andato a lettere c'è andato come nemico. Eh, lo so. E ci sono sempre dato... Io era anarchico e abbiamo avuto discussioni in merito, lo so. Eh, va bene, comunque, continuiamo al discorso. Ci siamo menati probabilmente. No, a me non mi minava nessuno, perché io la minava e mi mettevo sulle spalle... Al muro. Con le mani, con lui, se ne fatti mi toccava dentro. Allora... No, ma ho raccontato quella volta che ho incontrato il mio ex amico... Celerino, che semenavamo da un quarto d'ora a un certo punto... Lui, lui fa... Orazio! Dico, chi cazzo sei che aveva il casco addosso? Lo so, Ciro, l'immortalo situato! Allora, continuiamo, ricordiamoci che il creatore fisico dell'attuale capo del governo, Giuseppe Conte, ricordiamolo per l'ennesima volta, non è stato presentato alle elezioni, è stato nominato al capo del governo senza che nessuno lo abbia eletto. Il mentore è stato il cardinale Silvestrini, morto all'età di 95 anni, pochi giorni prima della nomina... Il cardinale Silvestrini da Brisichella, che aveva nominato da anni prima... Bellissimo paese della collina bolognese, di cui a suo tempo poi faremo una bella disanima, perché ho un testo, un libro, elto di circa 200 pagine, che racconta praticamente l'atteggiamento e la mentalità dei papalini romagnoli. Allora, Brisichella è un enclave della Romagna, tra parentesi noi dovremo batterci da ora in poi per l'indipendenza della Romagna e per l'istituzione della regione romagna, per liberarla dalle influenze, le paste dell'Emilia, ricordiamocelo bene. La Romagna è molto più importante dell'Emilia, è più ricca, è tutto quello che volete, ha maggiore storia e tutto il resto. E la istanza, la nascita della rivolta romagnola, c'è stata con un grande scrittore romagnolo, un grande scrittore involgare di Romagna, che è morto negli anni 70 e che ha passato tutta la storia, tutta la storia del Novecento si era fatto, medico, repubblicano, tante cose che poi diremo al momento opportuno. Tra l'altro dirò anche che mio zio Max era stato nominato in epoca più recente, però il mio zio Max è morto nell'Ottanta, negli anni 70. Ricordiamo il nome e cognome di tuo zio, un grande giornalista, è stato nominato, inviato in tutto il mondo, sì, era stato nominato presidente in esilio della regione Romagna. Noi dobbiamo combattere anche questa battaglia perché è importantissima, l'ho detto così, per inciso, anche se c'è questa inclave nella Romagna, che è prevalentemente repubblicana e anticlericale, però in quell'area lì, che è l'area dei peggiori clericali che ci siano mai stati nella storia d'Italia, da cui previene appunto il cardinale Silvestrini, ebbene queste cose si conoscono. Il creatore fisico è probabilmente, sai com'è, quei cardinali… C'è poco da scherzare… Sì, è sempre meglio non mostrare le terga… Le terga… Le terga… Le terga… Quindi non lo sappiamo, non lo possiamo sapere… Queste cose le dobbiamo ricordare molto bene, questa creazione di questo pandan, perché è un pandan dell'Opus, Villa Nazareth, dove appunto vengono creati questi personaggi. Tu ne hai detto un altro perché sicuramente una passatina, questo sardello, questa sardina, una passatina a Villa Nazareth, per avere una particolare benedizione, le benedizioni che danno in quei posti è su base, non su una croce che ti mettono sulla propria… Posso immaginare, non entro nel dettaglio… Ma sì, ma una tastatina di culo, capito? È una particolare forma di… Apprezzamento… Benedizione ai cristiani… Apprezzamento… Apprezzamento… E allora, tornando all'ultima facela, i sommovimenti del Cristo… Per ovvie ragioni, ci sono sempre stati, sarebbe strano incontrare, oggi noi viviamo… No, ricordiamo che 4 miliardi di anni fa, la terra aveva sì un'atmosfera, ma di ammoniaca. E allora che cazzo dovremmo dire? Era il dio Amun. Amun. Tutank Amun. Non a caso, non a caso, capito? Tutank Amun. Di provenienza egiziaca, ovviamente. Ma se tu vedete qua, fai uno scorso, dai, parliamo in maniera chiara che cos'è il cittadino. Perché ci sono tutte queste cose egiziane? Eh, dice, è un clima. No, non è un clima. Guarda. Tutte queste forme egiziane. Siamo nell'Ottocento. E nell'Ottocento ancora comandava a Roma la casta sacerdotale cristiana, la quale si autodefiniva, in un accordo segreto che fu fatto con la massoneria, la prosecuzione del rito egiziano. Tutte le manifestazioni dell'Ottocento qui a Roma, ecceppuato alcune manifestazioni chiaramente impersonificate. Eccolo qui. Ma per avere un'idea di quello che dici ancora più concreta, basta entrare nella chiesa che sta qua, Santa Maria del Popolo, e questa invece è Santa Maria degli Angeli, la doppia chiesa. E lì c'è il sepolcro di una serie di personaggi che uno, la storiografia stessa, quello ufficiale, dichiara molto dubbia, insomma poco apprezzabile, diciamo così. Però stanno lì come il dominus dei quartierini di Trassevere, come si chiamava, che sta sepolto a Santa Maria in Trassevere, come si chiamava, non mi ricordo più, quelli della banda della Magliana, come si chiamava? Ah certo, adesso non c'è più quella Santa Maria, l'hanno tolto, perché i media se ne sono accorti. No, se ne sono accorti, perché dopo le denunce, gli esposti, i reclami che sono stati fatti. Ma hai detto per inciso che quella povera ragazza andava lì? Si chiamava il piccolino, era un individuo, Ino, finiva in Ino, però non mi viene in mente. Il banchiere, comunque il banchiere, il cassiere della banca della Magliana, che ricordiamoci sempre, era in affari con Andreotti, e si chiama, finisce Nino il nome. No, mi hai portato su un'altra strada. In ogni caso, ricordiamoci che quella povera ragazza, che è sparita, andava in quella chiesa a studiare... Latino? No. Catechismo? No. Teologia? No. Che cazzo ne so, dillo adesso. A studiare il flauto. Ah, è vero, è un bel soufflé. Eh, appunto, tutto si raccorda. Tutto si raccorda, capisco, finito. Allora, faccio vedere di nuovo, perché poi c'è una mescolanza storicamente importante. La mescolanza tra l'interpretazione... No, quelle, ricordiamo, quelle lì sono le spingie, eh? Sì. Non sono le oni. Sì, allora, voglio far vedere la mescolanza sostanziale, no, tra l'interpretazione della romanità, però, in un'interpretazione neoclassica, perché quello è il neoclassicismo del Canova, che si mescola con la tradizione egiziana. Non è un caso. Con un obelisco vai al centro della piazza. Non è un caso. Eh, ci ha voglio vedere l'obelisco. È tutto voluto. È tutto voluto. Scritto con i seroclifici di carattere egiziano. Di carattere egiziano. Cioè, non è stata presa come altri nelle cave di Etiopia. È stato preso direttamente dall'Egitto. Questo è stato portato ai tempi di Augusto. Sì, lo so, so. Ah, quando ci fu. Allora, qui, bisogna dire che via del Corso è stata fatta da Paolo Quinto, questa qua. Però, non è che l'ha fatta di Sanapianta, esisteva già. Ed era la via più importante di Roma. Sì, dove ci facevano la Corsa del Calatra. La Rialata, si chiama L'Ivialata, dove sono nati ben quattro papi dei primi dieci. Per cosa? Nei primi dieci c'erano quattro papi che erano nati qua. Senza un po'. È chiaro? Che la dice lunga sulla misticità del papato? Fin dall'inizio, ab origine, però. Allora, noi che siamo difensori della Romanità, noi vogliamo liberarci di questa sovrapposizione, di questo sfruttamento della Romanità, infine, di un potere clericale che nulla è che fa a vedere con la grande religione romana. Capite? Con questo io vorrei chiudere facendo il doveroso, il doveroso atto di rispetto nei confronti a quella... Di quei due deceduti da condanna infame del Papa. Che era il Papa allora? Dio Sesso? Dio Sesso. No, era... No, 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 neanche... Era... Era coso? Pio Nono? No. Pio Nono? No. Ah, è vero, sì, era quello precedente, è vero. Perché lì parliamo del 1948. Pio Nono all'epoca era l'escovo di Imola. Sì, sì, esatto. Era il precedente. E' un punto. Forse Pio Ottavo allora. Non te lo saprei mai. Non mi ricordo, vabbè. Pio Ottavo. Andiamo a rendere omaggio perché sono stati sacrificati tutti e due... Alla logica del potere. Sì, da un'organizzazione delinquenziale che era obiettivamente di carattere punitivo. Una condanna esemplare. Ecco, indipendentemente da quello che loro fossero o non fossero, erano banali aderenti alla masoneria. Sì. Ma la condanna è avvenuta senza prove e senza motivazioni. Ecco. Te consiglio i nostri amici andare a vedere sempre quell'ottimo film che possano trovare tranquillamente il nome... Il nome del papare. Ecco. Del grande regista Magni. Luigi Magni. Andiamoci in telegrinaggio. Allora, chiudiamo qua? No, abbiamo in telegrinaggio e anche Romagno. Oh, tra l'altro va detto per inciso che erano due romagnoli. Montanari e Salvini. Tardini. Ah, Tardini, sì. Tardini. Tardini, Tardini. No, Salvini, Tardini, Tardini. Targhini e Montanari. Allora, Montanari era uno giovane sui 50 anni. Tardini, più anziano, sui 50 anni, è un giovane sui 20 anni. Che vergine, morto vergine fra l'altro. Sempre davanti. Vergine davanti, certo. Perché hanno ripristinato gli autobus elettrici. E' un lavoro. Vogliamo poi andare a vedere dentro la chiesa? Eh, non so se ci fanno. Come no? Oh, la chiesa è ingresso libero, eh. Eccolo qua. Ah, l'hanno riscritto bene, vedi? Giorgio, l'hanno riscritto per bene con... Evidenziando le scritte. Sì. Vedi? Angelo Targhini e Leone da Montanari. Papa senza prove e senza difesa. In questa piazza serenamente offrirono, affrontarono il 23 novembre 1825, l'Associazione Democratica, Gittavani, Arrua... Giovanni Arquati, l'Arquati è quella che morì... Per volontà, moritrice del popolo, qui fosse il 2 giugno di Milano... L'Arquati, l'Arquati è quella... Quando c'era Argan? Quando c'era il sindaco Argan non l'ho fatto? No, questo c'è stato messo inizio del Novecento. Eh, eccolo qua. Argan, oh, ma che dici? No, Argan, scusa, come cazzo si chiama? Ah, certo, certo. Quello ebreo. Sì, ebreo e masoni. Masoni. No, Argan... Eh, appunto, dicevo. Na, na? Sì, e na è più qualcosa. Na... Natta! Natta, ci siamo arrivati a un tipo di... Sì, Natta, Natta. E Ernesto Natta. Allora? Eccolo qua. Ernesto Natta. Grande sindaco, oppure sì, ebreo e masoni. Magari ce ne fossero... Magari ce ne fossero... Ebrei e masoni come lui. Il guaglio è che non... E' un merce rara. Era un giusto. Era una famiglia di signori, di veri, autentici signori. Allora, per ricordare ancora, alla fine, perché è bella, vedetevi il film, cari amici, vedetevi il film, perché è il film che è un po' di... Il nome del Papa Re, di Luigi Comencini. Magni. Magni, scusa. E alla fine, quando stanno per tagliare... Un lapis, è un lapis. Di anno a? È del 1970, 72. Sì, ma anche prima. Il nome del Papa Re. Sì. Il nome del Papa Re. Bello. Ne ha fatti tre. C'è... Cosa? Quello di... C'è, quello francese. No, come si chiama? Nino Manfredi. C'è Nino Manfredi. Che fa il ciabattino che imporziona la figura del... Quello che scriveva il Pasquino. Sì. Il Pasquino. Il Pasquino. Che fa i messaggi... In tutti i tre film di Magni c'è Nino Manfredi. Sì, sì. Poi questi tre film che dico, perché il nome del Papa Re... E... Non mi ricordo... Io lo so, ma non me li ricordo neanche io. Io li ho visti tutti, più di qualche volta. Oh, me li ricordavo prima. Il nome del Signore. Sì. Nel nome del Signore. Sì. Vabbè, l'ultima cosa che volevo farvi vedere. L'attore che impersona la figura di Montanari è quel famoso attore francese. Sì, sì, quello che ha fatto tanti film anche di cappa e spada. Soprattutto di quelli, con quella famosa attrice francese. Sì, bellissima. Bellissima donna francese. Quanto mi piaceva. Angelica. Angelica, sì, bravo. E lui prima di mettere la testa... Sì, lui c'è uno streggio qua, sulla faccia. E lui prima di mettere la testa sotto la... Migliottina. La ghigliottina. Dice, ciao popolo. Quello che ci aspettavano che il popolo si ribellasse per salvarli a loro. Sì, sì, sì. Hai voglia di aspettare. L'abbiamo detto che chi si chiama il regista? Luigi Magni. Magni. Allora, vedi un po' i nomi. Chiudo, chiudo. No, un momento. I nomi perché dobbiamo ricordare queste cose. Luigi Magni è stato un gran, è stato aiutato da Craxi. Un vero regista laico. Era nel 70, perché nel 70 è emersa quella contestazione contro il papato forte. Sì. E questa targa è dedicata ai protagonisti del film? I due personaggi che sono stati impersonificati... Anche l'altro personaggio era un francese. Ah, sì, nel film. Il giovane. Anche nel film, sì, è vero, bravo. Anche nel film fanno vedere la targa, non so se te lo ricordi. Alla fine. Alla fine. Alla fine si vede la targa. Allora, guarda un momento i titoli. Allora, uno è nel nome del signore, l'altro è nel nome del Papa Re, che sono due. E l'altro non ci ricordiamo. Sono altri due. Uno si vede che Garibaldi... Poi c'è il Marchese del Grillo, che è quello con cosa? È un'altra cosa. Alberto Sordi. Alberto Sordi, sì. È un'altra cosa. Ma è un taglio completamente... È ambientato all'inizio 800 con l'arrivo dei napoleonici a Roma. No, sono morti nel 1922, 1825. Erano i primi voti carbonari. Erano i primi voti carbonari. Sto parlando del film di Alberto Sordi. Ah, sì, sì. Quello è ambientato nell'arrivo del... 1812, sì, sì. L'arrivo dei francesi della rivoluzione. Poi dove si vede che ci sono... Che poi lui vuole andare in Francia e rimane a Zagarolo. E passano. E se vedono che passano... Che tornano. I militari napoletani che dicono, è stato un gran casino, abbiamo perso tutti. Che arrivavano... Allora, viene il giorno indietro. Viene al dupo, viene. Le altre due le dobbiamo dire agli amici che devono trovarli. Dai, dai, lascia. Ricordo l'immagine di Garibaldi sulla... Eh, su una tartana a Cesenatico che sta partendo. Dimmi qua il titolo. No, te vedi Luigi Magni. Ah. Ma senti, chiudo? No, diamo questi ultimi due titoli. Ah, ma vabbè, la gente ce lo va a vedere da sola. No, vabbè, ma se li diamo ancora meglio. Allora, il nome del Papa Re. Sì. Nell'anno del Signore 1969. Il nome del popolo 1980. Il nome del popolo. La Tosca del 1973. Sì. State buoni se potete dell'83. Bello pure quello. Ci viene detto anche a un santuomo. Al grande uomo, anche se è religioso. Sì. Ma di religioso ce l'aveva poco. Sì, di religioso ce l'aveva poco. Va bene, abbiamo detto tutto. Bene, sempre. So long. So long. So long. Walk of change.